Finalmente siamo arrivati alla direttiva d'arrivo e il 29 di questo mese sarà ratificato a Parigi questo prestigioso riconoscimento di bene immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Dopo otto anni siamo riusciti finalmente con questo evento, con la sottoscrizione della Carta dei Lavori da parte delle 11 comunità emblematiche, tra cui Lecce, siamo riusciti a completare l'iter per poter avere questo riconoscimento del rito dell'espresso del caffè italiano, quindi una bevanda, un rito che ci accompagna ogni giorno trasversale a qualsiasi tipo di società, classe sociale, individui, quindi una bevanda democratica che giustamente ha il diritto di avere questo riconoscimento. Una delle fasi importanti, l'abbiamo avuta proprio l'altro giorno, due giorni fa, al Ministero dell'Agricoltura dove c'è stata la sottoscrizione della Carta dei Valori ed è stato un piacere e un onore aver avuto un mio caro amico, Lino Banfi, che è stato nostro testimonial, quindi per quanto riguarda la comunità emblematica della Puglia, di Lecce e della Puglia, ha sottoscritto la Carta dei Valori che racchiude, che specifica tutti gli aspetti sociali, identitari, culturali, artistici che interagiscono con proprio questo rito del consumo dell'espresso italiano.